Ma che roba è? Scusa, eh! Ma guarda che i festeggiamenti sono in Duomo, Fanto. Chi è questo qua? Il figlio di Moratti? Sì, lui, l'ha riconosciuto. Eh, l'ho riconosciuto, è lui. Allora, i nostri cinque ospiti di oggi, tutta gente che ha vinto il campionato, il primo, il difessore del Novara, Andrea Lisuzzo! Grazie, Andrea! Vecchio Neone! Buonissimo, ciao! A questo, il portiere della Juve Stabia, Andrea Soviero! Grazie, ovele! Vedi, 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 vedi. L'attaccante del Portoguaro, Marco Cunico! Anche il bacone! Un idolo, un idolo! Grandissimo! Scusa! L'attaccante della Lucchese, Riccardo Benuomini! Grandissimo! Grazie! E il difessore del Sud Tirol, Hans Kim! Ciao! Grazie, 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 grazie! Hanno tutti vinto, che partita avete visto oggi? Nessuna. Nessuna? Come nessuna? Abbiamo aspettato che fuori! Non l'ha visto neanche una partita oggi, scusate. Allora, adesso ne parlo con il Tramezzani. Grande nostro opinionista, Paolino Tramezzani! Vieni, Paolino! Grazie per questo piacere di giocatore. È un quartier del Roi, è il top dei top. Non potevamo chiudere meglio. Tutti vincitori di campionato. Tutti vincitori di campionato. Protagonisti nelle loro squadre. Non avevi qualcuno di seconda categoria, terza, campionato? C'era un amico, ma doveva lavorare. C'era, lavorava? Bene, allora guardiamoci la scheda di Tramezzani, per conoscerlo meglio. Nome Paolo, con il nome di Tramezzani, professione, adesso va in ferie ma non si capisce da cosa. Progetti per il futuro, farà la parte di Big Jimmy, Toy Story 3, curiosità, occhio ragazze, l'estate di spiaggia, prende il sole nudo. Complimento! Allora, quindi tu frequenti le spiagge per nudisti? Spiagge per nudisti, esistono spiagge per nudisti? Esistono spiagge per nudisti, certo, no? C'è il cartello, scusa, eh? Azza, ecco perché ti non guardavano mai, allora, gente. Avete l'HD?